Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, si sta avvicinando sempre di più la pubblicazione dell'ultimissima tappa del mio On The Road di quest'estate e con l'occasione vorrei lasciarvi un video di recap di quello che è stato il lato pratico e organizzativo di questo viaggio prima e durante, che cosa ho fatto esattamente come ho organizzato in modo veloce e conciso per lasciarvi gli spunti giusti per magari organizzare per l'anno prossimo il vostro stesso On The Road. Come sono partita? Sono partita dall'idea, l'idea era quella di fare un viaggio On The Road da sola, quindi in macchina e partire per diversi giorni e girare per diversi posti. Inizialmente stavo valutando destinazioni diverse anche fuori dall'Italia, però poi per rimanere un pochino più safe, visto che era il mio primissimo On The Road, mi sono detta che era forse il caso di rimanere vicina a casa e allora ho messo giù un piano, ho pensato ai giorni che avevo a disposizione, che erano otto ed era il lasso di tempo massimo, diciamo così, delle mie ferie in cui potevo essere lontana da casa, anche perché dopo poi ho sfruttato gli altri giorni a disposizione per fare anche altre cose e negli otto giorni erano compresi anche il giorno di partenza e quello di rientro, però organizzato di modo da non sprecare neanche un giorno. L'idea è partita dal desiderio di viaggiare in macchina, visitare tanti posti nuovi, città o borghi d'arte, però regalarmi e concedermi anche un po' di relax in natura e quindi anche un po' di verde e un po' di mare. Siccome avevo già visitato un po' la Toscana, il mare in zona Rimini-Riccione non mi piace e anche se per un po' ho valutato la Puglia, era un po' troppo lontana per questi otto giorni, mi sono fermata un po' più su e quindi la meta scelta è stata il confine tra le Marche e l'Umbria che racchiudono esattamente l'idea perfetta del viaggio perfetto per me, dove ho potuto fare un mix di sport, quindi camminate in giro per tutte queste città e borghi e in mezzo alla natura e comunque fare anche qualche giorno di mare. Quindi quello che ho deciso di fare è stato proprio di fare un giro pensato bene per fare un bel po' di tappe, almeno una per giorno e fare un bel giro per concludere poi con qualche giorno di relax al mare. Inizialmente in realtà mi ero organizzata e programmata più tappe, in alcuni casi avevo anche l'idea di fare due tappe in un giorno, ma col senno di poi vi dirò che forse non è il caso. Io sono già un'abbastanza motivata, mi piace camminare, mi piace fare, vedere tanti posti. Questo comunque era troppo impegnativo, quindi due tappe in un giorno diventava un po' tomace e infatti ho rallentato il passo. Qual è stato il percorso? Sono partita da Milano e sono arrivata a Gradara, un borgo medievale bellissimo che consiglio assolutamente da vedere, si può visitare in poche ore e a differenza di quello che ho fatto io perché sono partita con più calma, vi consiglio di partire presto e di arrivare presto e di farevi la mattinata, concludere il giro con un pranzo e poi spostarvi verso la prossima destinazione, anche perché il borgo è molto piccolo. Io poi mi sono persa via perché sono scesa anche a Gabicce Mare che è lì vicino e che però non merita per quello che sono le mie idee di mare e le mie idee di un bel posto da visitare, era troppo caotico, troppo pieno di gente e il mare non era per niente bello e pulito, per cui non ho fatto nemmeno il bagno, sono andata dritta verso la destinazione successiva che è stata Gubbio, quindi col senno di poi avrei detto mattino a Gradara con pranzo in conclusione per poi spostarsi dopo pranzo verso Gubbio che è un posto veramente delizioso, un borgo veramente stupendo e in realtà mi raccomando una volta iniziato il giro impostate il navigatore su strade senza pedaggio per riuscire a vedere tutta la natura sul tragitto che è veramente uno spettacolo, anche quello fa parte dell'esperienza, infatti da Gradare verso Gubbio ci sono dei paesaggi veramente mozzafiato, sono bellissimi, infatti in più di un'occasione avrete voglia di fermarvi per ammirarli. A Gubbio mi sono fermata una notte e un giorno, questo è stato più che sufficiente, mi rendo conto che io sono un po' pazza e mi piace abbastanza camminare e correre, però se volete appunto fare le cose con un pochino più di calma il pomeriggio più la sera e la giornata dopo intera sono esattamente il tempo giusto per visitare con calma tutte le meraviglie della città e ce ne sono davvero tante. Consiglio in tutti questi posti se li state visitando in estate di partire dalle parti esterne, quindi dal fuori, dalle camminate fuori nella natura al mattino per poi rintanarvi nel pomeriggio dentro edifici storici da visitare nelle ore più calde della giornata che è quello che ho fatto anch'io perché il caldo era veramente eccessivo e altrimenti avrei sofferto troppo. Dopo Gubbio avrei dovuto visitare Fabriano e poi scendere verso Assisi, però nel visitare Gubbio ci ho messo un po' di più e mi sono resa conto che andare a Fabriano sarebbe stata una deviazione inutile e quindi avrei sprecato troppo tempo per questa deviazione dalla quale poi sarei dovuta poi tornare comunque verso Gubbio per raggiungere Assisi e quindi ho cancellato la prenotazione che avevo a Fabriano e sono andata direttamente ad Assisi. Col senno di poi vi dico è stata veramente la scelta più azzeccata, quindi un altro elemento fondamentale mi raccomando prenotazioni flessibili con cancellazione gratuita perché non si sa mai quello che può succedere durante il viaggio o comunque se si cambia idea o si vogliono fare altre cose o altri giri oppure ci si vuole fermare un pochino di più in un posto in questo modo lo possiamo fare. Dopo Gubbio la tappa per me successiva è stata Assisi, altro gelino che non avrei mai pensato di amare così tanto. In realtà tutta la bellezza di questo posto è il borgo in sé ma anche tutto il patrimonio artistico e culturale che viene conservato dalle tante chiese basiliche di cui è tempestato. Sono stata ad Assisi un giorno intero e sono riuscita a girarla per bene e a vedere quasi tutti i must del borgo. Dopodiché la tappa successiva, anche qui c'è stato un cambio di programma, sono andata alle lame rosse e la tappa doveva comprendere un giro alle lame rosse e poi un giro in un altro punto e dentro altri percorsi sui monti sibillini però mi ero resa conto che faceva troppo caldo e che mi sarei staccata troppo inutilmente e quindi ho cancellato la camminata sul percorso della lavanda se non ricordo male e ho mantenuto solo quello alle lame rosse che è davvero uno spettacolo. Andatevi a vedere il video però è veramente bellissimo e merita davvero tanto la deviazione. Unica cosa un pochino negativa è che ho prenotato a camerino che è un bel po' lontano dalle lame rosse però avendo fatto questa prenotazione a last minute mi sono dovuta diciamo accontentare e quindi se posso darvi un suggerimento prenotate qualche cosa, una struttura quanto più vicino possibile perché le strade sono un po' disestate, ancora un po' diciamo disagiate e ci si mette un po' altrimenti a raggiungere la destinazione. Infatti sono arrivata un po' tardi verso le 10 e quindi ho iniziato la camminata intorno alle 11 e quindi ho camminato proprio nelle ore più calde della giornata però non per questo ho amato di meno questa tappa, è stata veramente uno spettacolo. Da qui sono andata poi direttamente verso le marche, verso il mare e mi sono fermata in zona Ancona. Infatti ho prenotato l'hotel ad Ancona perché era l'unico che diciamo era in budget e bello, carino e vi dirò che è stata anche una scelta molto comoda. Avrei preferito avere un albergo magari a Sirolo o a Numana però in realtà da Ancona tutte le spiagge più belle sono raggiungibili con 20 minuti di macchina ed è in realtà una cosa molto molto comoda e quindi mi sono fermata ad Ancona per quattro notti e ho visitato tutte le spiagge più belle della zona, ho fatto un sacco di camminate, ho fatto anche l'esperienza del traghetto verso la spiaggia delle due sorelle che è anche questo must. Io infatti l'ho prenotato proprio la sera prima ed ero in piena alta stagione e vi direi che è una cosa che è fattibile, si può lasciare da prenotare all'ultimo in base anche a quello che poi si rivela il giro che poi si fa davvero perché sulla carta è sempre tutto molto bello e molto schedolato però poi quando si ritrova a vivere il viaggio capita spesso poi di cambiare idea, di volersi rilassare un po' di più o magari di voler vedere qualche cosa di nuovo e quindi meglio lasciarsi la possibilità di farlo. Infatti il mood di questa vacanza è stato quello di organizzare bene gli alloggi, organizzare bene il giro a grandi linee per poi lasciarmi lo spazio e di sbizzarrirmi quanto più possibile in tutta sicurezza e tranquillità perché avendo già prenotato tutti gli hotel non avevo il pensiero di dove avrei dormito la notte ma potevo comunque divertirmi a visitare i posti, cambiare un po' il tragitto scegliere esattamente che cosa mi andava di mangiare quel giorno oppure scegliere l'attività da fare nel luogo che ho scelto di visitare e quindi non mi sono blindata troppo prenotando già le attrazioni ma l'ho fatto sul momento in base a quello che mi andava di fare. Un'altra cosa che ormai fa parte di tutte le vacanze e di tutti noi perché quando si va in vacanza si vogliono portare a casa anche dei bei ricordi e spesso questi ricordi si trasformano in foto del posto e di noi dentro il posto che stiamo visitando e su questo argomento il consiglio che mi sento di darvi è quello di andare a fare una sbirciata dei luoghi che andrete a visitare andare a vedere foto dei posti, dei monumenti e della natura che andrete a visitare di modo da farvi un'idea della palette di colori per programmare gli outfit in base appunto alla palette dei luoghi che andrete a visitare perché in questo modo se si scelgono degli outfit o più outfit o più capi che possono essere abbinati tra di loro però nei colori del luogo ci si assicura già in partenza la palette giusta e i giusti presupposti per delle foto meravigliose perché scegliere i colori giusti che vadano bene con quello che ti circonda ti facilita davvero tanto nello scattare la foto e fa già azzardo il 90% del lavoro poi serve solo scegliere la giusta inquadratura e mettersi nella giusta posa ed è fatta però se già si scelgono bene gli outfit e i colori questo ci aiuta davvero tantissimo nel non doverci poi preoccupare di come verranno effettivamente le foto perché questo assicurerà proprio una resa quasi ottimale infine altri elementi fondamentali visto che si viaggia in macchina mi raccomando un check up prima di partire perché non vogliamo rimanere a piedi e un'altra cosa che mi sento di dirvi portatevi l'indispensabile dietro e quindi sì ai medicinali di emergenza perché a volte magari ci si trova in posti dove non c'è una farmacia vicino portatevi qualche cosa da sgranocchiare in emergenza anche lì acqua e cibo sono fondamentali perché non si sa mai dove ci si ferma e se si trova qualche cosa da mangiare soprattutto se avete delle esigenze particolari per quanto riguarda le alimentazioni come me ad esempio che mangio gluten free e vegetariano e poi cos'altro mi sento di consigliarvi? assolutamente sì ai pacchi preparati per tappa quindi con tutto l'indispensabile per la sera, la notte e il giorno successivo questo mi ha facilitato davvero tanto non ho dovuto tirare giù tutta la valigiona e ho potuto prendere le cose giuste facilmente e sapere esattamente quale fosse la busta giusta etichettandola in quale busta avevo le cose extra se avevo voglia di fare un cambio di outfit oppure mi veniva voglia di cambiarmi o avevo bisogno di cambiarmi perché magari mi sono sporcata o perché magari ho sudato un po' troppo e così via l'unica cosa che ho fatto un po' male è stato il beauty l'ho caricato troppo infatti mi ha pesato un po' per il viaggio successivo mi ridurrò a prendere solo cosette mini e niente più formato grande questo è tutto questi sono tutti i tips che ho notato hanno funzionato per me nel mio on the road di agosto fatemi sapere quali sono i vostri tips per i vostri viaggi i vostri viaggi anche on the road è tutto per oggi ci vediamo nel prossimo video e fino ad allora mi raccomando prendetevi cura di voi ciao